Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 17 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni del sud Italia avremo ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato, mentre su alcune regioni del centro e su quelle di nord-est avremo condizioni di tempo instabile con possibilità di piogge e rovesci. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali e i mari risulteranno generalmente mossi, ad eccezione dell'Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale aumento. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili e soleggiate su tutto il territorio. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera assisteremo ad un aumento di una velocità soprattutto alta e stratificata dai quadranti occidentali che interesserà gran parte del territorio regionale e in maniera minore le zone costiere. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.